allora siamo dopo i premaggi tra germinaca e luino qui c'è la ciclabile di qua la diga e dall'altra parte pompieri ora dopo diverse segnalazioni che mi sono arrivate da alcuni cittadini per sempre per il discorso spaccio vi faccio vedere dove si infilano uno dei tanti posti perché non c'è solo la stazione dei treni lungo lago le fontanelle ma anche questo bellissimo sotto passaggio bello nascosto comodo vicino alla ciclabile e ora vi faccio vedere tralasciando lo schifo di odore sto per fare capire che cosa c'è allora classico napapieri da pusher marocchino bilancini birre pacchetto di cartine imidazio l'antistabinico immondizia varia immondizia ma una splendida siringa senza ago e poi le rotte ma questa roba anche molto recente quindi vuol dire ci vengono solite pellicole dove infilano loro merda cartine altro pacchetto di cartine il schifo vario che va bene e questa è una delle tante splendide sorprese che si trovano in giro per ruino e dintorni basta andarle a cercare e saltano tutte fuori ora Dio solo sa che cosa ci sarà in giro d'altro ma mi limito a questo e poi segnaliamo il tutto